Allora, introduciamo il professor Fernando Boero, professore di zoologia all'Università di Napoli Federico II e associato al CNR per lo studio degli impiatti antropici. È presidente della Fondazione Dorn e vicepresidente di Mare Vivo. Si occupa di biodiversità marina e funzionamento degli ecosistemi e di sostenibilità. E su questi argomenti ha scritto anche documenti in indirizzo per la Commissione Europea e la FAO. Ha scritto libri di divulgazione sulle scienze, economia, religione e bellezza e infine è uno studioso del film Canidaria. Ha descritto molte specie, citiamo una tra le tutte, la fialella Zappai e del professor Fernando Boero, a cui lascio la parola. Ciao, buongiorno, grazie a tutti. Grazie per avermi invitato. Si sente? Si sente benissimo. Perfetto. Grazie per avermi invitato a questa discussione. Io non farò vedere slide, penso che le cose che ho da dire si possano comprendere senza bisogno di nessun aiuto visuale. Ho dato un po' di contributi all'Unione Europea, anche attraverso progetti che ho coordinato, e il prodotto di questo lavoro e di quello di moltissimi altri miei colleghi ha portato alla definizione di Horizon Europe e il New Green Deal. Cosa vuol dire? Che poi diventano il Recovery Fund, quello di cui stiamo parlando, cioè noi stiamo aspettando che ci diano 209 miliardi di euro per recuperare uno stile di vita che attualmente è compromesso dal Covid, ma non solo dal Covid. Qual è la visione dell'Unione Europea per fare questo? Se ne sono accorti il 13 febbraio. Prima non se ne erano accorti. E hanno proposto, di punto in bianco, il Ministero della Transizione Ecologica. E hanno detto, guardate che questi ci stanno dando tutti questi soldi perché vogliono la transizione ecologica e noi dobbiamo pianificare la transizione ecologica. E non l'avevamo pensato delle versioni che abbiamo fatto del PNRR, che vuol dire Piano Nazionale di Recupero e Resilienza. Cioè loro ci dicono, noi ti diamo i soldi per fare certe cose che noi non stavamo proponendo quelle cose. Ne stavamo proponendo delle altre. Allora, una cosa interessante che io ho chiesto anche ai miei studenti di quest'anno di andare a vedere, andare a vedere quali sono queste linee guida di Horizon Europe e quelle del Recovery Fund. Perché quelle linee guida rappresentano gli obiettivi che ci sta dando l'Unione Europea. Cioè l'Unione Europea ci dice, li volete questi soldi? Dovete fare queste cose. E noi stiamo proponendo quello che ci chiedono? Allora, se voi prendete questi documenti e fate un semplice CTRL-F, cerca, find, e scrivete la parola Biodiversity, viene fuori 105 volte. Biodiversity, la biodiversità, viene considerata, usando una terminologia europea, cross-cutting a tutte le iniziative. Cross-cutting vuol dire trasversale a tutte le iniziative. Un'altra parola che compare 107 volte nei due documenti è ecosystems. E quindi, cosa chiede l'Unione Europea? Chiede che tutto quello che noi progettiamo come espressione dei nostri sistemi economici di produzione e consumo non deve erodere la biodiversità e non deve compromettere il funzionamento degli ecosistemi. Adesso, la transizione ecologica significa proprio questo. Significa, fino a ora, non abbiamo dato alcuna importanza né alla biodiversità né agli ecosistemi. li abbiamo considerati come dei meri fornitori di beni e servizi. Si chiama una logica estrattiva. La biodiversità è lì, la natura è lì, perché noi ne possiamo usufruire e trarne quindi vantaggi. Ebbene, è quello che noi abbiamo sempre fatto. Pensate ai pescatori. I pescatori vanno a pescare, il loro capitale sono i pesci. Se i pesci diminuiscono, cosa fanno i pescatori? Cosa hanno fatto i pescatori? Hanno incrementato l'efficienza delle tecnologie di prelievo e quindi hanno pescato quello che si aspettavano di pescare in un mare che non gli stava dando quello che prendevano prima con le loro modalità classiche di pesca. Dopo un po', però, i pesci hanno cominciato a essere di nuovo di meno e allora hanno incrementato l'efficienza dei loro mezzi di prelievo. E a un certo punto poi non ci sono più pesci. E infatti stiamo passando dalla pesca all'acquacoltura. E stiamo allevando dei carnivori a cui diamo da mangiare farina di pesce, che è ancora peggio. Questo modello di visione della natura come una fornitrice di beni che noi dobbiamo usufruire, dobbiamo estrarre, ci ha portato in una situazione che non è confortevole. Cioè la possibilità che in futuro possiamo godere degli stessi beni e servizi diminuisce sempre di più. Man mano che aumenta il capitale economico diminuisce il capitale naturale. Adesso noi ci possiamo fare una domanda molto semplice alla quale non c'è una risposta alternativa. Cioè possiamo vivere senza gli ecosistemi e senza la biodiversità? La risposta è no, non possiamo vivere. Ma si rovina l'economia. L'economia si rovina se distruggiamo la biodiversità agli ecosistemi perché alla fine la produzione dei pescatori diminuisce se non ci sono più pesci. Quindi è nell'interesse dei pescatori che la natura non sia troppo depauperata, altrimenti non hanno più da far fiorire fiorire la loro economia. Bene, questo chiede l'Unione Europea. Il New Green Deal significa questo ed è nuovo New perché infrange le regole che avevamo prima, cioè c'era l'economia che doveva crescere e tutto il resto non ci interessava. È Green perché è verde, cioè mette la natura al centro. non ci può essere un'economia sana in una natura distrutta e quindi il primo obiettivo del New Green Deal è preservare la natura. Bene, sapete quante volte c'era la parola biodiversità nella seconda versione del PNRR e poi hanno fatto la terza? c'era zero volt. Ho parlato 45 minuti con il ministro Costa, il ministro dell'ambiente. Ovviamente così come sto facendo con voi da uno schermo di computer ma è stata sentirmi per 45 minuti e ho cercato di spiegargli queste cose. La terza versione del PNRR vedeva biodiversità due volte. 105 contro due. Non ci siamo. L'Unione Europea un piano così lo boccia. Lo boccia perché è sbagliato. Ma poi anche se uno potesse dire non me ne importa se è sbagliato io penso diverso l'Unione Europea pensa così. Se vogliamo i soldi dobbiamo rispondere a quello che ci chiede. cade il governo Conte e Grillo propone il Ministero della Transizione Ecologica. Io ero tutto contento quando c'è stato questo. Però poi guardo le competenze che sono state chiamate e non ci sono naturalisti non ci sono ecologi non ci sono biologi non ci sono nemmeno geologi ci sono soltanto economisti e ingegneri che sono quelli che hanno progettato il sistema di prima e cioè noi ora siamo nei guai perché abbiamo progettato i nostri rapporti con la natura in un modo che dava predominio alla tecnologia e all'economia. Ora siamo nei guai e chi chiamiamo a risolvere i guai che sono stati creati quelli che li hanno creati e quindi noi abbiamo un Ministero della Transizione Ecologica che è in mano ai technologi non è la transizione tecnologica è la transizione ecologica. Di che cosa abbiamo bisogno? Ovviamente noi avremo bisogno di buone tecnologie è vero quello che diceva Carlo prima noi non abbiamo a parte che non è che in Cina che usano carbone la più grande centrale a carbone d'Europa è a Cerano a Brindisi ce l'abbiamo in Italia ed è la più grande produttrice di CO2 d'Europa e le acciaierie di Taranto la più grande acciaieria d'Europa va a carbone quindi il carbone ce l'abbiamo a casa nostra non è che non ce l'abbiamo a questo punto le tecnologie oggi non rispondono a queste necessità noi siamo ancora all'età del fuoco cioè noi siamo ancora dei produttori di energia attraverso la combustione siamo nell'era della combustione dobbiamo uscire dall'era della combustione e quindi e cioè bruciare carbonio consumando ossigeno e producendo aridride carbonica dobbiamo smetterla e la tecnologia ci servirà e come? perché dovremmo inventare dei nuovi modi che siano abbastanza efficienti l'energia nucleare l'energia nucleare anche lei non è stoccabile noi abbiamo smesso di produrre energia con le nostre centrali perché i francesi che avevano costruito tantissime centrali avevano talmente tanta energia che non sapevano dove metterla e alla fine ce la davano a noi per quattro soldi e non ci conveniva nemmeno più produrla a noi perché la compravamo da loro solo che ora devono dismettere le centrali e non sanno come fare e i costi di dismissione sono superiori ai guadagni che hanno avuto producendo l'energia non parliamo delle scorie nucleari noi abbiamo avuto cinque minuti di nucleare e non sappiamo dove mettere le scorie e adesso in Italia stiamo litigando perché nessuno le vuole ovviamente pensate se avessimo avuto trent'anni di produzione di energia nucleare quante scorie nucleare avremmo da smaltire quindi non possiamo risolvere un problema creandone uno ancora maggiore che viene scaricato sulla vostra schiena perché noi fra un po' usciremo di scena e ci sarete voi e noi abbiamo risolto i nostri problemi e poi li abbiamo scaricati su di voi questi soldi arriveranno quindi per questo c'è una cosa che bisogna prendere in considerazione se si affronta un problema da un punto di vista scientifico io devo essere in grado di valutare l'efficacia di quello che faccio cioè se io dico voglio fare nuove tecnologie che siano sostenibili devo capire se è vero che sono sostenibili oppure no e oggi le norme dell'Unione Europea per fortuna non prevedono più l'analisi di determinati variabili prese una per una ognuna con la sua soglia metti e la concentrazione di cadmio la concentrazione di mercurio la concentrazione di fosforo e così via ognuna da sola con il suo piccolo limite io posso avere cento di questi valori tutti sotto la soglia ma quando agiscono in contemporanea e quindi effetti cumulativi possono avere degli effetti devastanti invece sui sistemi su cui insistono la misura dell'efficacia si vede dallo stato della biodiversità e dalla funzionalità degli ecosistemi se la biodiversità viene mantenuta e gli ecosistemi funzionano adeguatamente vuol dire che siamo sulla buona strada se la biodiversità regredisce e gli ecosistemi non funzionano adeguatamente vuol dire che dobbiamo ricalibrare le nostre tecnologie perché non vanno bene noi non non abbiamo sistemi osservativi che ci permettano di dire se la biodiversità è in buono stato oppure no non ce l'abbiamo e non abbiamo sistemi osservativi che ci permettano di capire se un ecosistema funziona bene oppure no dobbiamo sviluppare delle tecnologie che ci permettano di farlo perché noi abbiamo e quindi servono le tecnologie ci mancherebbe ancora però non possono essere i tecnologi a decidere quali sono le tecnologie che ci servono e quindi non può essere un tecnologo il ministro della transizione ecologica e invece lo è e quindi ci vogliono degli ecologi dei naturalisti dei biologi che gli dicano che cosa bisogna misurare e lui poi deve trovare il modo per misurarlo lavorando assieme questo è il nuovo patto che dovremmo fare e questo è il campo di ricerca che abbiamo davanti e abbiamo 209 miliardi per esplorare queste strade almeno in parte cioè un terzo di questi 209 miliardi dovrebbero andare lì la cosa incredibile è che non andranno lì stiamo proponendo dell'altro e quindi qua è una questione di pressioni su cosa sia importante su cosa bisogna fare la visione della biodiversità nel nostro paese anche grazie alle associazioni ambientaliste e ripeto io sono vicepresidente di una e sono nei consigli scientifici di molte altre però per il pubblico la biodiversità sono i delfini le tartarughe il lupo l'orso e l'aquila questa è la biodiversità e funzionamento degli ecosistemi lasciamo perdere su sull'enciclica laudato si che è un documento che io vi consiglio di leggere le parole biodiversità ecosistemi sono presenti decine e decine di volte non come il nostro PNRR e Francesco dice che non possiamo vivere senza la biodiversità e gli ecosistemi nel capitolo 22 però spiega come funzionano gli ecosistemi e dice ah è mirabile come funzionano gli ecosistemi ci sono le piante i produttori primari che danno vita alla materia gli erbivori mangiano le piante i carnivori mangiano gli erbivori con i rifiuti dei carnivori ci sono le sostanze che vengono di nuovo utilizzate dalle piante per produrre nuova materia vivente descritto sull'enciclica descritto in quel modo sembra che l'erba cresca dalla cacca dei lupi non ci sono i batteri non ci sono i processi di decomposizione cioè il Papa spiega come funzionano gli ecosistemi in un'enciclica e si dimentica i batteri che sono gli organismi più importanti per il funzionamento degli ecosistemi adesso l'enciclica del Papa è stata vista ovviamente dall'Accademia Pontificia delle Scienze non se ne sono accorti il che vuol dire che non c'era nessuno che sapesse come funzionano gli ecosistemi se no gliel'avrebbero detto guarda mettici anche i batteri bastano due paroline cioè tutta questa l'erba gli erbivori e i carnivori muoiono sono decomposti e quello che compone i loro corpi viene risintetizzato nel ciclo della vita dalle piante e invece non c'è e quindi il Papa mi vuole spiegare come funzionano gli ecosistemi e non lo spiega bene il che vuol dire che noi abbiamo una cultura della natura che è molto rudimentale e i nostri politici quelli che devono scrivere il piano nazionale di recupero e resilienza quando vedono quelle parole biodiversità ecosistemi non hanno mica contezza di cosa significhino e quindi le saltano tutt'al più facciamo un parco da qualche parte ci mettiamo dentro due lupi e siamo contenti poi tutto il resto va in un'altra direzione il problema è che in altri paesi europei questa cosa è stata capita e il Green Deal viene fuori da quei politici i nostri non hanno capito adesso noi abbiamo un problema la comunità scientifica americana decise che dovevano educare i politici sull'importanza dell'ecologia dello studio della natura ebbero molto successo convinsero Al Gore Al Gore un certo anno vinse il premio Nobel per la pace e l'Oscar per il film che aveva fatto sulla distruzione della natura nello stesso anno perse le elezioni e le elezioni le vinse George W. Bush che scatenò la guerra del golf adesso qual è stato l'errore strategico non dobbiamo convincere i politici dobbiamo convincere chi li sceglie e quindi deve essere la popolazione ad avere una cultura tale da scegliere i politici giusti non dobbiamo educare i politici sbagliati dobbiamo scegliere i politici giusti ma lo potremo fare soltanto se avremo una cultura adeguata nel farlo oggi questa cultura in Italia non c'è e quindi non se ne accorge nessuno cioè hanno fatto il ministero della transizione ecologica l'ha dato un tecnologo e sono tutti contenti vuol dire che non hanno capito cioè i naturalisti gli ecologi dovrebbero essere in piazza a gridare davanti al ministeri a dire ma ci state cosa state dicendo non è questo quello che si chiede invece non se ne accorge nessuno viene vista come una cosa ineluttabile e ovviamente questo è un po' un problema possiamo fare tanti bei discorsi però poi bisogna passare dai discorsi alle azioni ai fatti e per la prima volta nella storia abbiamo le risorse per cambiare i nostri stili di vita in un modo che noi continuiamo a dire essere quello giusto però è molto probabile che queste risorse non verranno utilizzate per questo scopo e il motivo numero uno è carenze culturali non c'è sufficiente conoscenza di tutto questo e se voi pensate ai politici i politici poveretti non fanno nemmeno tutte le domande che dovrebbero fare e anche la comunità scientifica che è abbastanza strana le Nazioni Unite hanno detto nei prossimi 50 anni si estinguerà un milione di specie dico ragazzi un milione di specie abbiamo calcolato che ce ne sono circa 8 milioni sul pianeta un milione di specie sono tante no? e se uno mi dicesse si estinguono 8 milioni di specie io fossi un politico direi ah dimmene 100 che si sono estinte in mare visto che la maggior parte degli ecosistemi del pianeta sono in mare dimmene 100 se nei prossimi 50 anni se ne estinguerà un milione ce ne saranno 100 che sono già estinte e voi pensate che ce l'abbiamo questo questo elenco questa lista non ce l'abbiamo mica non ne abbiamo nemmeno 10 non ne abbiamo nemmeno una sono tutte estinte localmente sono tutte molto vicine all'estinzione sappiamo che si è estinto qualche pesce d'acqua dolce sappiamo che si è estinto qualche razza di rinoceronte e così via ma di estinzioni di specie marine non abbiamo documentazione a questo punto se io fossi un politico chiederei alla comunità scientifica ma come parli tanto di estinzioni dimmene qualcuna e no c'è quella lì la vacchita de mar nel golfo del messico che è ancora sì vabbè ma quelli ci sono ancora dimmene una che non ce n'è più non ce l'abbiamo quante specie si sono estinte dal golfo di Napoli abbiamo la stazione zoologica che studia la biodiversità marina nel golfo di Napoli da più di cento e passa anni potremmo dire che se n'è estinta qualcuna non abbiamo queste informazioni e quindi c'è qualcosa che non funziona nemmeno in noi cioè stiamo proponendo delle evidenze che sono soltanto stime però di dati reali non ce ne sono la disciplina della tassonomia in un'epoca in cui tutti dicono che la biodiversità è importantissima sta scomparendo e di persone che siano in grado di descrivere specie nuove ce ne sono sempre meno specie nuove vuol dire specie sconosciute il calcolo è che ce ne siano 8 milioni sul pianeta ne abbiamo descritti 2 milioni se tu vuoi e quindi vuol dire che ci sono 6 milioni di specie che ancora non sono state descritte la biodiversità è importantissima ma l'esplorazione della biodiversità è in crisi e quindi c'è uno scollamento tra quello che diciamo essere importante è quello che invece poi viene davvero fatto nell'università nella Federico II sta per partire un corso di laurea di esobiologia cioè c'è qualcuno che sta vendendo e lo stiamo facendo la storia della colonizzazione di altri pianeti distruggiamo questo pianeta trasferiamo la nostra specie su un altro pianeta e continuano a proporci esopianeti potenzialmente abitabili e finanziamo con quantità di denaro stratosferiche spedizioni su altri pianeti siamo arrivati su Marte adesso stiamo cercando la vita su Marte poi non conosciamo la biodiversità di questo pianeta e spendiamo più soldi per cercare la biodiversità dove non c'è che per esplorarla dove c'è come possiamo gestire un capitale di cui non abbiamo fatto l'inventario come è possibile cioè come possiamo dire che la biodiversità è il nostro asset numero uno e poi ignorarne la struttura e la funzione è dal 1992 la convenzione di Rio che abbiamo deciso che la biodiversità è quello che ci permette di restare viventi ora sì è vero che sono importantissime tantissime altre discipline inclusa la geologia però se andiamo su Marte la biologia fa finta di esserci ma dato che non c'è di vita la biologia serve a poco la geologia serve perché ci sono le rocce marziane anche sulla Luna da qualunque altra parte nell'universo la geologia avrà il suo ruolo la biologia no ha un senso solo su questo pianeta perché è l'unico dove per quel che ne sappiamo esiste la vita e quindi è una singolarità dovrebbe essere la cosa numero uno il problema numero uno e invece evidentemente non lo è io non vi faccio vedere equazioni quest'anno non ho potuto fare le esercitazioni pratiche ai miei studenti e allora gli ho fatto fare un'esercitazione virtuale gli ho detto esplorate lo spazio attorno a voi incluso i supermercati e tutti i posti dove potete andare a comprare qualcosa e fate l'elenco delle specie animali con cui interagite per esempio quelle che mangiate sono andate a guardare il tonno la scatoletta di tonno da dove viene il tonno che mangiamo e hanno scoperto che intanto non c'è una sola specie di tonno nelle scatolette ce ne sono tante che nessuna viene dal Mediterraneo peschiamo i tonni mangiamo i tonni che vengono dall'oceano indiano soprattutto il pinne gialle i filetti di merluzzo quelli di Capitan Findus che col coltello sfiletta e se lo mangia vengono dal Sud Africa di roba che è pescata in Mediterraneo ce ne è pochissime andate in un supermercato cercate quanti prodotti provengano da popolazioni naturali non ce n'è nemmeno uno terrestri viene tutto da agricoltura e allevamento questo vuol dire che le popolazioni naturali non sono più in grado di fornirci dei beni andate sul banco della pescheria ci sono ancora beni che provengono da popolazioni naturali i pesci che sono pescati con le reti o con gli ami non sono molti quelli che vengono dal Mediterraneo la maggior parte viene da fuori il pesce più venduto in Italia oggi è il salmone e non è un pesce di mare è un pesce di allevamento e viene allevato in Norvegia in Scozia e in Irlanda quando io avevo la vostra età sui banchi delle pescherie c'erano solo pesci di mare non c'erano pesci di allevamento sono più buoni i pesci di mare o i pesci di allevamento quelli di mare e costano anche molto di più perché allora ci sono quelli di allevamento perché in mare non ce n'è più stiamo passando dalla caccia in questo caso la pesca e la raccolta all'agricoltura ora in mare eravamo fino a 30 anni fa 40 anni fa cacciatori raccoglitori in mare stiamo diventando allevatori e stiamo diventando allevatori perché abbiamo distrutto le popolazioni naturali a terra questi esercizi sono molto più rapidi l'ultima caccia industriale che abbiamo praticato è stata la caccia ai bisonti quella di Buffalo Bill però Buffalo Bill e quelli come lui in tre stagioni di caccia hanno sterminato tutti i bisonti con i fuscili di precisione quelle popolazioni di bisonti avevano sostenuto gli indiani d'America per migliaia di anni era caccia artigianale con la caccia industriale la risorsa è scomparsa in brevissimo tempo quanti piccoli fa una femmina di bisonte ne fa uno all'anno quanti piccoli fa una femmina di tonno 200.000 ci mettono un po' non tutti diventano tonni però la possibilità di recupero per una popolazione marina è senz'altro superiore rispetto a quella di una popolazione terrestre però se continuiamo a prenderli in modo così efficiente neppure questi tassi di riproduzione riusciranno a fermare il declino adesso stiamo parlando di estinzione commerciale vuol dire che la specie c'è ancora però non è più sfruttabile commercialmente io sono stato chiamato a scrivere il programma nazionale per la ricerca il PNRR è quello per la per l'Unione Europea il piano nazionale della ricerca è quello invece per l'Italia dove l'Italia deciderà quali come investire in finanziamenti la ricerca e io ho ricevuto la parte marina di questo programma insieme con altri tre colleghi il tema che ci avevano proposto era gestione delle risorse marine cosa vuol dire gestione delle risorse marine vuol dire che il mare è considerato un contenitore di risorse e quindi qualcosa che io devo estrarre dal contenitore e che devo gestire in modo da poter continuare a usufruire di queste risorse si chiama la visione estrattiva della natura la natura è un'entità dalla quale estraiamo risorse ci avevano chiesto però di attenerci alle norme di Horizon Europe e cioè delle direttive europee e io le conoscevo bene le direttive europee e ho detto ma qui ci stanno chiedendo che la biodiversità è crosscutting gli ecosistemi e così via la visione estrattiva non c'è mica nell'Horizon Europe l'abbiamo cambiato è diventato conoscenza e gestione sostenibile degli ecosistemi marini al primo posto abbiamo messo la conoscenza come fai a gestire una risorsa che non conosci e che non sai come funziona e in più non abbiamo messo più le risorse abbiamo messo gli ecosistemi e abbiamo aggiunto sostenibile cosa vuol dire sostenibile vuol dire che ogni incremento di capitale economico che porta a un decremento del capitale naturale è insostenibile ed è per quello che io ho bisogno di un sistema osservativo che mi permetta di dire qual è lo stato del capitale naturale cioè di biodiversità ed ecosistemi perché posso capire se quello che sto facendo è sostenibile oppure no poi ci siamo accorti che in tutto il resto del piano del programma nazionale della ricerca il mare non c'era e quindi tutte le sezioni che riguardavano le tecnologie o altro vedevano soltanto gli ambienti terrestri l'Italia ha 8500 chilometri di coste e le acque territoriali italiane hanno una superficie che è uguale a quella del territorio italiano però lo spazio è maggiore perché l'acqua è in tre dimensioni l'acqua è in volume a terra è una superficie la terza dimensione è la dimensione degli organismi poi qualcuno ci vuola un po' dentro ma poi ritorna indietro in mare c'è un sacco di roba che sta in sospensione nella terza dimensione se voi prendete la superficie del pianeta è vero il 70% è ricoperta dagli oceani il 30% dalle terre poi metteteci l'antartide che è coperto di ghiaccio poi metteteci tutti i deserti insomma però quel 70% di superficie del pianeta coperto dal mare ha uno spessore medio di 3500 metri ed è un volume il 98% dello spazio abitabile della vita su questo pianeta è oceano e la vita non sarebbe possibile senza l'oceano pensate al pianeta senza l'oceano ci potrebbe essere la vita no pensate se fosse tutto oceano ci potrebbe essere la vita e come che ci potrebbe essere quindi senza l'acqua la vita non è possibile il nostro programma nazionale della ricerca prendeva in considerazione il mare soltanto nel piccolo ambito che avevano assegnato a noi e quindi abbiamo dovuto caricare dentro lì anche tutta l'innovazione tecnologica e quindi adesso quel pezzo si chiama programma si chiama conoscenza innovazione tecnologica e gestione sostenibile degli ecosistemi marini ci vuole la tecnologia ci vuole ma deve essere funzionale ad un fine e il fine è la sostenibilità e la misura della sostenibilità è lo stato della natura e quindi noi dobbiamo costruire delle nuove tecnologie che ci permettano di capire come sta la natura e ci permettano di inventare dei nuovi modi di produrre e consumare che non erodano il capitale naturale questa è la sfida e lo spazio per chi sta studiando o ha studiato scienze naturali scienze ambientali scienze biologiche scienze geologiche che sono le scienze della natura dovrebbe essere al numero uno cioè oggi nei nostri normali sistemi di governo il ministero che funziona da bypass di tutte le iniziative è quello dell'economia perché il ministro dell'economia dice sì sì vuoi fare queste cose bellissime però non ci sono i soldi non si possono fare il ministro fioramonti quello della pubblica istruzione nel cote uno voleva tre miliardi per la scuola e disse se non mi date tre miliardi io mi dimetto il ministro dell'economia gli disse tre miliardi non te li diamo e lui si dimise vuol dire che era il ministro dell'economia che decideva cosa si faceva nel ministero della pubblica istruzione qualcuno propone il ministero dell'economia dispone col new green deal il ministro della transizione ecologica dovrebbe poter dire ah tu vuoi fare queste centrali nucleari però devono rispondere a determinati requisiti se distruggono la biodiversità agli ecosistemi non sono sostenibili non le puoi fare hai soldi per farli no non li puoi fare perché poi farai dei danni che richiederanno molti più soldi di quelli che guadagneremo usandoli per riparare i danni che hai fatto ci siamo già passati grazie quindi il le nostre conoscenze dovrebbero diventare il filtro attraverso il quale passano tutte le decisioni è normale che ci sia resistenza gli altri non vogliono e infatti nel ministero della transizione ecologica c'è un tecnologo e nella sua squadra non ci sono specialisti di natura ci sono economisti e ingegneri la strada è lunga abbiamo però intanto abbiamo il contenitore il contenitore è il ministero della transizione ecologica transizione vuol dire che dobbiamo passare da un posto e dobbiamo transitare in un altro posto il posto in cui siamo ora è il posto dell'insostenibilità e dobbiamo transitare verso la sostenibilità per farlo abbiamo bisogno di cambiare i nostri sistemi di produzione di consumo non saremo noi a inventarle queste cose noi saremo i giudici cioè questi dovranno proporre delle cose e noi in base a quello che saranno gli impatti di questo su biodiversità ecosistemi dovremmo dire se vanno bene oppure no e se non vanno bene dovremmo dirgli bravo hai fatto un bel esercizio però non va bene torna con un esercizio migliore se è questo quello che proponi mi dispiace no non ce lo possiamo permettere abbiamo già fatto abbastanza danni è facile che non succederà questo i casi quindi sono due o l'Unione Europea se ne accorgerà e ci taglierà i fondi e questo è possibile perché non sono così contenti di essere presi in giro e se ci chiedono a e noi gli diamo b ci diranno non grazie già non ce li volevano dare questi soldi figuriamoci se arriviamo proponendo una cosa che non corrisponde a quello che ci chiedono lo guarderanno con una lente grossa così oppure faremo finta di farlo ma poi come ha detto ho citato prima un Papa adesso ne cito un altro come ha detto Giovanni Paolo II la natura si ribellerà a quello che le stiamo facendo e si ribellerà nei modi che ben conosce in natura le ma se io vi chiedessi quali sono le leggi della fisica le sapete? magari mi dite le leggi della termodinamica ci avete qualche formulina E uguale a MC quadrato e tutte queste cose qua quali sono le leggi della natura? non lo sapete no? Davide fa una faccia come dire non lo so quali sono le leggi della natura? perché diciamo sempre dobbiamo obbedire alle leggi della natura e uno dice vabbè e quali sono? siete naturalisti lo sapete? le leggi della natura sono due sono scritte sull'origine delle specie la prima è la legge della crescita tutte le specie tendono ad aumentare di numero lo fanno con la riproduzione è un imperativo categorico ok? ogni individuo di una specie tende a riprodursi e a produrre nuovi individui si chiama la legge della crescita è quella degli economisti vogliono la crescita la seconda legge della natura però è la legge del limite anche se tutte le specie tendono ad aumentare di numero non tutte possono farlo perché non ci sono risorse sufficienti per la crescita di tutte le specie è su queste due leggi che si base alla selezione naturale e la teoria dell'evoluzione noi abbiamo abbracciato la legge della crescita però le specie conoscono solo la legge della crescita è una legge interna alle specie la legge del limite viene imposta dal resto della natura nessuna specie decide da sola di smetterla di crescere glielo impone la natura i modi sono i soliti carestie malattie oppure competizione per la nostra specie guerre con questo si fermano le crescite la lotta per l'esistenza quindi prevede che essendo le risorse non illimitate ci siano dei limiti alla crescita l'obiettivo di tutti i nostri politici è la crescita ragazzi siete proprio scemi cioè però questo va contro le leggi della natura o meglio obbedisce alla prima legge della natura ma disobbedisce alla seconda siamo esseri intelligenti cerchiamo di fare in modo che non sia la natura darci una bastonata limitiamoci prima e cerchiamo di fare qualche cosa anche questo è un un concetto strano e paradossale da una parte tutti parlano di equilibri si sono rotti gli equilibri naturali e così via anche se in natura gli equilibri è ben difficile che ci siano dall'altra però tutti vogliono la crescita ma se vuoi la crescita vuol dire che non vuoi l'equilibrio l'equilibrio presuppone che ci sia un momento in cui si rimane lì no in effetti noi dovremmo riuscire a restare in equilibrio su quello che è quella tavola da surf che ci sostiene in un sistema naturale che stiamo cavalcando con quest'onda che stiamo cavalcando e quindi non dobbiamo vedere la creazione e questo lo vediamo anche nelle in ecologia per esempio nella curva logistica con RK R il tasso di crescita K la capacità portante una volta che siamo arrivati alla capacità portante la specie non continua a crescere rimane in equilibrio tanti ne muoiono tanti ne nascono non ne devono nascere sempre di più queste sono le specie R le mosche però le mosche hanno crescite esponenziali e poi mortalità esponenziali noi non siamo così e quindi dobbiamo capire che ci deve essere un punto in cui ci dobbiamo fermare che non vuol dire decrescita vuol dire equilibrio e sviluppo non vuol dire crescita continua un organismo si sviluppa ma vabbè se è un pitone o un coso continua a crescere per tutta la vita ma tanti quando arrivano in fondo e arriva la maturità sessuale si fermano di crescere quindi sviluppo e crescita non sono la stessa cosa e quindi chi ci propone la crescita infinita ci sta truffando ma noi abbiamo la cultura per capirlo e per smascherare questa truffa evidentemente no evidentemente no eppure le due leggi della natura non sono difficili però vi ho chiesto quali sono e facevate il segno di no con la testa quando ve l'ho chieste il che vuol dire che uno è della società di scienze naturali ma non conosce le leggi della natura conosce quelle della fisica dico ragazzi ma come quelle della fisica tra l'altro queste leggi della natura non si fanno con un'equazione non c'è l'equazione come non c'è l'equazione della storia si chiama storia naturale esiste l'equazione della storia esiste un'equazione che tu schiacci il bottone conosci il futuro per certe cose sì però come diceva Carlo prima per i sistemi complessi ci devi mettere dentro talmente tante variabili e talmente tante interazioni che le equazioni diventano molto instabili e quindi alla fine puoi anche provare a farla l'equazione ma il futuro è talmente dipende talmente da contingenze che poi quello che viene fuori non è proprio chi è che aveva previsto che ci sarebbe stato il covid chi aveva previsto la crisi economica del 2008 chi aveva previsto la caduta del muro di Berlino chi è che aveva previsto l'11 settembre nessuno non c'è l'equazione dell'impero romano non c'è l'equazione della storia e noi facciamo storia naturale Darwin ha scritto il libro che ha cambiato la nostra visione del mondo non c'è nemmeno una formula non c'è nemmeno una formula e non è che chiami un fisico si mette lì e fa le formule e poi prevede non funziona così per certe cose funziona se io voglio andare su Marte ci sono le formule che mi permettono di lanciare il razzo e calcolare che traiettoria deve avere per arrivare in quel punto lì quando Marte sarà lì rispetto si possono fare queste cose la matematica qui è potentissima nella storia no e quindi noi dobbiamo lavorare con sistemi differenti le equazioni sono importanti per certe per certe cose ma non sono il segreto per capire come funziona questa porzione di realtà direi che sono le 18.56 posso continuare a parlare di questa roba per tre giorni però se ci sono domande tanto più inizio io a farle qualche domanda da naturalista ho due domande da farle la prima è quale consiglio potrebbe dare ai giovani naturalisti che si stanno laureando o che si sono laureati come me e che trovano la loro figura depauperata nel mercato del lavoro al giorno d'oggi e la seconda io da ricercatore che ho lavorato presso l'area marina protetta della Gaiola come può la conservazione essere rispettata se non c'è un controllo poi appunto per esempio per quanto riguarda la pisca io sono stato anni a monitorare la pisca illegale la pisca di frodo e non c'è nessun controllo da parte l'autorità su questo e non c'è dubbio non ci sono le risorse queste risorse del Green Deal dovrebbero arrivare per fare queste cose c'è una cosa strana una cosa che dico ai giovani naturalisti è naturalisti biologi e quello che volete iscrivetevi alle associazioni ambientaliste e cercate attraverso quelle cioè in teoria ci dovrebbe essere un partito verde che imponga certe politiche in Italia non c'è cioè se tu vuoi votare qualcuno che accuore lo stato dell'ambiente non sai per chi votare cioè lo stesso Grillo che una delle delle punte delle 5 stelle è l'ambiente però propone il ministero della transizione ecologica e poi è tutto contento se ci va un tecnologo e quindi c'è qualcosa che non funziona no? Se io volessi votare per un partito che vuole mettere l'ambiente al primo posto come chiede l'Europa e come chiedono questi qui che ci stanno dando i soldi per chi voto? Nessuno al momento Nessuno al momento Allora un conto è andare con i Fridays for Future andare in piazza incatenarsi fare la manifestazione con un milione di persone però poi le leggi non le fai lì le fai nel Parlamento quindi bisogna anche uscire poi ad avere un impatto a livello politico perché è così che funziona il nostro sistema è così che funziona se non c'è un partito fatelo o comunque cercate di incidere di andare andate dai politici e diteglielo spiegateglielo quando Draghi ha voluto chiamare gli esperti di ambiente ha chiamato le associazioni ambientaliste non ha chiamato la società scientifica la comunità scientifica c'è differenza tra associazioni ambientaliste e ricercatori che passano la loro vita a studiare l'ambiente un conto è essere sensibili all'ambiente un conto è essere competenti nella e qua invece si confonde la sensibilità con la competenza non è la stessa cosa prof ci sono pervenute delle domande allora la prima è quale pensate sia stato l'impatto del covid sulle nostre politiche ambientali ma del covid ma nessuno cioè noi non ne abbiamo politiche ambientali no penso al fatto che in questo periodo in cui abbiamo potuto dare un po' di spazio agli ambienti per ricrescere nello stato allora non politiche ambientali ma sullo stato dell'ambiente sullo stato dell'arte dell'ambiente ma il covid lo abbiamo visto se tu smetti di impattare c'erano i delfini dentro i porti cioè per determinate almeno tipologie di animali ovviamente si sono ripresi di più il loro spazio i pescatori dicono che hanno pescato molti più pesci nel post covid perché c'è stata una ripresa delle popolazioni ittiche ma poi lo vediamo nelle aree protette se c'è una vera protezione dell'ambiente marino non se c'è la pesca illegale dentro all'area portetta però se ti fermi di pescare dentro uno spazio significativo i pesci tornano quindi lo vediamo lo vediamo l'Unione Europea ha fatto la strategia marina con undici descrittori di buono stato ambientale il primo descrittore di buono stato ambientale è la biodiversità deve essere mantenuta praticamente non ci sarebbe bisogno di tutti gli altri dieci che prendono in considerazione singoli impatti e chiedono che ognuno di questi impatti non alteri il funzionamento degli ecosistemi questo non nelle aree protette in tutte le acque europee a questo punto abbiamo una legge potentissima bisogna che non ci sarebbe nemmeno più bisogno di aree marine protette perché la biodiversità deve essere mantenuta gli ecosistemi devono funzionare che altro obiettivo c'è in un'area protetta questa direttiva lo mette in tutte le acque europee solo bisogna tradurla in azioni concrete e non lo stiamo facendo e quindi un conto però nelle aree protette vediamo che se ci fermiamo di estrarre le risorse si ricostituiscono e quindi c'è la possibilità però dobbiamo diventare più coinvolti politicamente lo so che sembra una cosa strana però se non facciamo se non entriamo e proponiamo queste cose non ci sarà qualcuno che le proporrà al nostro posto e quindi dobbiamo faremo e ora le regole europee ci sono in Italia però non le stiamo capendo dobbiamo fare in modo che vengano applicate dobbiamo chiedere che vengano applicate la il programma nazionale della ricerca è stato fatto e vi assicuro che alla fine non era male non è male quello che è uscito fuori il pezzo di carta su quello che si dovrà fare in mare ma si farà davvero poi perché un conto è avere dei bei pezzi di carta e un conto è se poi si fa davvero oppure no e qui non può essere uno solo a fare queste cose ci deve essere un movimento forte che spinga in questa direzione e ci vuole un cambiamento culturale se i naturalisti non sanno quali sono le leggi della natura siamo ben presi e conoscono quelle della fisica siamo ben presi vuol dire che hanno abdicato alle loro priorità hanno abbracciato quelle dei fisici ok e quindi c'è una prima dobbiamo cambiare noi dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento e avere un po' più di sicurezza della forza dei nostri argomenti e non dobbiamo farci influenzare dalle supercazzole di quelli che arrivano pensando di aver capito tutto loro ok per certe cose funziona per altre no infatti avrei una domanda un po' provocatoria professore da questo punto cosa ne cosa ne pensa in una prospettiva appunto di una resilienza futura degli ambienti naturali quello che adesso diciamo va di moda come il veganesimo oppure il come dire gli studi ho capito degli alimenti sintetici quelli che potranno poi essere gli alimenti sintetici proprio in prospettiva di questo considerando che le monoculture dall'agricoltura usate per gli alimenti vegani appunto danno molti problemi alla biodiversità allora a questo discorso non è sbagliato se noi mangiamo a livelli alti delle catene trofiche ovviamente impattiamo molto di più che se mangiamo a livelli bassi delle catene trofiche e quindi dovremo abbassare il nostro livello trofico io però a queste provocazioni noi siamo noi siamo nivori biologicamente quindi abbiamo delle diete che sono miste di animali e di piante chi mangia le piante di solito mangia roba coltivata l'agricoltura fa una cosa eradica tutta la biodiversità e la sostituisce con una sola specie poi con i pesticidi cerca di uccidere tutti i competitori e i predatori della specie che coltiviamo e invece dei servizi ecosistemici mette i fertilizzanti per cui questo azzera la biodiversità l'agricoltura non è ecologicamente sostenibile i vegetali che mangiamo derivano da agricoltura se poi ovviamente pratichiamo l'agricoltura e i vegetali che produciamo li diamo da mangiare alle mucche e poi mangiamo le mucche ci vuole molta più agricoltura per sostenere le mucche per cui è meglio mangiare le piante piuttosto che le mucche adesso faccio una provocazione e rispondo alla provocazione con una provocazione è meglio essere mitigliani cosa mangiano le cozze? e filtrano sono filtratrici e cosa mangiano? diciamo tutte le sostanze organiche in sospensione dell'acqua sostanze e cosa sono queste sostanze? cosa mangiano le cozze? non lo so macromollecole organiche ma no la sto prendendo la laglia ma no vedi cioè qua la gente sanno le cose allora io una volta a uno studente gli ho detto scusa se tu mangi le cozze ti può venire l'epatite virale cosa mangeranno le cozze? ti sto chiedendo di che colore è il cavallo bianco di Napoleone epatite virale mangiano i virus quello invece mi rispose ah i batteri in effetti le cozze ti può venire anche il colera e lì c'è un vibrione del colera mangiano i batteri come fanno a mangiare le cozze? come fanno a mangiare le cozze? le cozze anche questo mi sono scoperto ho scoperto che non lo sa nessuno non ve lo insegnano fate scienze naturali ma non sapete cosa mangiano e come mangiano le cozze e siete laureati e non vivete a Trento vivete a Napoli le cozze se adesso tu respiri del polline il tuo apparato respiratorio produce del muco ingloba queste sostanze strane e poi tu le espelli le cozze portano acqua dentro la loro cavità del mantello sulle branchie per respirare l'ossigeno disciolto nell'acqua in quell'acqua ci sono anche virus batteri fitoplancton protisti e anche sostanza organica particolata e così via che finisce sul muco che sta sopra le loro branchie invece di buttarlo fuori con uno starnuto si mangiano il muco con tutta questa roba e quindi filtrano l'acqua hanno cooptato l'apparato respiratorio e l'hanno fatto diventare un apparato alimentare e quindi quello che potrebbero essere per noi dei patogeni per loro è cibo e lo fanno diventare proteine a questo punto se io metto un allevamento di cozze in mare ce l'abbiamo qua a Castel dell'Ovo queste puliscono l'acqua da questa roba come si fa a curare le cozze? ci vuole la stabilazione se tu prendi le cozze le metti in acqua pulita il muco che c'ha sopra i batteri e i virus viene mangiato vengono digeriti questi diventano proteine se l'acqua è pulita non ce ne sono altri quindi il muco è pulito e le cozze non sono più trasportatrici di patogeni a questo punto mangiare le cozze è più sostenibile che mangiare la lattuga ok non devo mettere fertilizzanti non devo mettere mangimi non devo mettere proprio niente le metto in un posto di merda e loro trasformano la merda in proteine ok e questo questa è l'acquacoltura sostenibile a questo punto se uno ti dice che è vegano tu gli devi dire ma no devi essere mitiliano mangiacozze sono più sostenibili della lattuga ok però non è una provocazione la sua in realtà può essere anche vista come un incoraggiamento no no non è per niente una provocazione però ti rendi conto Davide che ti chiedo le leggi della natura non le sai come mangiano le cozze non le sai adesso prof mi avete bocciato a questo esame non ho bocciato te ho bocciato chi ti ha dato la laurea cioè qui non è colpa tua come diceva Jessica Rabbit mi disegnano così cioè uno perché qualcos'altro ti avranno insegnato no lo spero e evidentemente sei molto sensibile a questo se sei lì dove sei no e qui il problema è che forse non ti è nemmeno venuta la curiosità di saperle queste cose non ti sei fatto le domande no io chiedo ai miei studenti quelli del primo anno bevete un litro d'acqua e poi fate la pipì che strada ha fatto l'acqua ti assicuro che non sa rispondere nessuno e per dare la risposta della pipì devi sapere l'apparato digerente l'apparato circolatorio l'apparato respiratorio il metabolismo cellulare e l'apparato escrettore è un po' di sistema endocrino ma devono lavorare assieme poi non uno per uno e noi tendiamo a imparare le cose una per una e poi non vengono messe assieme per cui tu conosci tutti i pezzi ma non sei in grado di metterli assieme e questo non è colpa vostra è che abbiamo impostato così i sistemi di formazione e portano poi a cittadini non consapevoli e quindi che non si rendono conto appunto di quali sono le cose importanti adesso l'Unione Europea ci dice che le cose importanti sono la biodiversità e gli ecosistemi abbiamo gli argomenti per far valere questa cosa? no non lo stiamo facendo va bene diciamo che non abbiamo le conoscenze ma gli argomenti proprio nel nostro paese ci saranno eh ma per avere gli argomenti ci vuole la conoscenza eh perché ci vuole poco e quando tu dici si estinguono le specie uno ti dice dimmene cinque e non gliene sai dire nemmeno una certo non ti crede più non ti crede più dimmene cinque che si sono estinte in Mediterraneo la foca monaca c'è ancora eh in Mediterraneo c'è ancora la posidonia c'è le tartarughe le prendiamo a calci quindi dimmi una specie che si è estinta in Mediterraneo non ce l'hai ok però quando uno poi parla dice oh l'estinzione ti mettono nel sacco in cinque minuti ah non ne sai nemmeno una ah vabbè sì sì l'estinzione è importante certo ok quindi per avere buoni argomenti ci vuole conoscenza ah ecco io ho una specie che si è estinta dal Mediterraneo di ciclusa singularis ma non sai nemmeno cos'è però è una specie che non si trova più in Mediterraneo da centocinquant'anni e quindi si presume che possa essere estinta te ne posso dire tante altre ma non le non le conoscete non sapete che ci sono e questa triciclusa singularis è l'unica rappresentante del genere triciclusa e della famiglia tricicluside cioè si è estinta una famiglia e lo so non è un delfino una tartaruga però la biodiversità non è fatta solo di delfini e tartarughe prof le faccio le domande che ci sono giunte allora la prima è di Tiziano che ci chiede come facciamo a sapere se non abbiamo già superato il punto di non ritorno no non lo sai non lo sai a parte che poi chi se ne frega noi dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo e dobbiamo vivere l'ultimo come se davanti avessimo ancora duemila anni quindi non chi se ne frega del punto di non ritorno cerchiamo di fare perché se no se uno dice no la bianca è superato ah vabbè allora fa lo stesso non funziona così intanto cerchiamo di fare le cose per bene prof c'è una diciamo una domanda che specifica per lei Vincenzo Coppola ci dice prof Boero illuminante condivido il punto finale serve il partito naturalista quando si candida? eh non è facile poi si parla sempre largo ai giovani io ho fatto 70 anni prof avete già dei sostenitori sì d'accordo però perché no vabbè vediamo ma non credo cioè l'unico che è riuscito a fare un partito dal nulla è stato Grillo però era Grillo cioè ci vuole qualcuno che abbia poi una possibilità di convincere le persone ad andarlo a sentire a starlo a sentire Grillo comunque si voleva iscrivere al PD e voleva proporre una politica ambientalista al PD il buon Fassino gli rifiutò l'iscrizione e gli disse Grillo che cosa vuole Grillo? che faccia un partito si presenti alle elezioni e vediamo quanti voti prende però l'ha potuto fare perché era Grillo non lo può fare un Ferdinando Boero Proffo non si demotivi non si scoraggia comunque tanti sostenitori tra i naturalisti e non assolutamente c'è una domanda da parte di Lorenzo Papaleo chiede come vede il nuovo ministero della transizione ecologica e secondo lei c'è il rischio che l'attenzione politica verso la biodiversità ed ecosistemi sia ancora minore rispetto a prima? ma io l'ho detto non mi sei stato a sentire Papaleo cioè se il Lorenzo se il ministero della transizione ecologica viene dato a un tecnologo e all'interno del ministero sono chiamati solo tecnologi ed economisti che preparazione hanno questi su biodiversità ecosistemi? il zero non fa parte del loro percorso di formazione alla fine facciamo fatica e appunto come abbiamo visto figuriamoci quelli figuriamoci quelli quindi no non ci sono speranze io ero tutto contento quando hanno fatto questo ministero quando poi ho visto io lo conosco personalmente il ministro Cingolani eravamo nella stessa università l'università del Salento e ha fatto l'istituto di tecnologia a Genova che è la mia città però un tecnologo cioè di biodiversità non sa e di ecologia non sa cioè se a me mi avessero chiamato a fare il ministero della transizione tecnologica avrei detto non sono competente chiamate un ecologo un tecnologo invece fanno il ministero della transizione ecologica e chiamano un tecnologo che va lì a fare la transizione senza gli ecologi come la devo vedere il contenitore è bellissimo il concetto è magnifico dentro al barattolo sembra che ci sia Nutella ma no è marrone ma non è Nutella non ha lo stesso sabore no allora l'ultima domanda è di Ornella Capezzuto che ci chiede noi come WWF Napoli cerchiamo proprio volontari preparati per poter portare avanti delle battaglie ma abbiamo grandi difficoltà a trovare volontari che vogliono impegnarsi oltre l'evento singolo che possono avere una visione ampia come dice il professor Boero come motivarli come portarli ad inserirsi e a prendere il testimone da noi che abbiamo troppi anni beh non lo so non è che non dovrebbero essere motivati dal WWF dovrebbero venire nel WWF perché sono motivati ma bisogna vedere il WWF che cosa gli propone e il problema poi è questo io ho visto questo lo posso raccontare perché ormai queste persone non ci sono più io sono nel consiglio scientifico del WWF ho fatto anche una lezione a One Planet School potete trovarla sul sito del WWF quindi collaboro col WWF una volta vado ero appena arrivato a Lecce nel 1987 arriva una mostra sui cetacei e c'è il vicepresidente del WWF un vicepresidente del WWF questo dice io sono un architetto però da sempre tutte le volte che vedo un delfino una balena mi batte forte il cuore io sono amo questi animali e quindi sono un cetologo e io quando sento questa frase dico come faccio adesso a fargli capire che non è così senza mettermi lì e far vedere che farla io la conferenza al posto suo poi mi viene perché sono stato lì a pensare tutto il tempo che sparava le sue cose e dico scusa però tu sei un architetto e dici che ti piacciono tanto i delfini e quindi se ti piacciono tanto i delfini ti definisci un cetologo allora Casanova era un ginecologo è chiaro cioè non basta che ti piaccia tanto una cosa e che tu sia così sensibile per una cosa per poter diventare poi competente qua il problema è che poi a parlare col ministro ci va il WWF non ci vanno e cioè persone che hanno grande sensibilità ma lì ci devono andare quelli che hanno grande competenza che non necessariamente sono le stesse persone ok e il WWF così come tutte le altre associazioni ambientaliste hanno adottato la strategia dell'animale carismatico il panda mare vivo c'ha i delfini quell'altro c'ha l'upupa e quell'altro c'ha la tartaruga le cosiddette specie ombrello e c'hanno le specie carismatiche no gli animali più importanti del pianeta sono i copepodi nessuno sa cosa siano e dopo 40 anni di specie carismatiche si è rimasti alla balena e al delfino il copepodi non lo sanno cos'è e quindi alla fine è una visione disneyana dell'ambiente è una visione edulcorata da Fedro dove bisogna fare anche le trasmissioni naturalistiche ci sono migliaia di ore di trasmissioni naturalistiche in televisione e nessuno sa cosa sono i copepodi vuol dire che si vuole che gli spettatori facciano ma non devono fare ah cioè la consapevolezza non viene mai e alla fine diventa intrattenimento la natura è intrattenimento quando si parla di cose serie non c'è più arrivano i filosofi arrivano i cose guardate i talk show non c'è mai uno che ne sappia di natura mai ci sono i filosofi ci sono gli scrittori ci sono i giuristi ci sono i politici ma gente che ne sappia di natura non ci sono mai io sono andato a tutte le trasmissioni naturalistiche che ci sono nelle nostre reti ma mai a una di quelle generali mai perché quando poi si tratta di parlare di cose serie la natura non c'è più ma è colpa nostra perché siamo sempre siamo come le mamme dei gatti col delfino e la tartaruga e alla fine ci vuole qualcosa di più di questo non siamo ancora usciti dal ghetto della specie carismatica però ragazzi sono le 19.23 non dovrò finire alle 19 alle 7 sì sì abbiamo abbiamo sconato un po' vabbè ma lei è troppo interessante quindi ci dispiaceva fermarla e ma quanta gente c'è alle 17.0 ci sono ci sono ci sono sono rimasti attualmente non è praticamente caduto informazioni live dagli streaming il numero più o meno è uguale se qualcosa è salito su youtube no sono una più di 50 persone ancora 50 non sono pochi se fossimo al chiuso dentro una sala saremo già un buon saremo già un buon numero grazie 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 a lei grazie a voi allora colgo l'organizzazione per ringraziare un'altra volta il professor Fernando Boero e il professor Carlo Donadio che ci hanno aiutato a a mettere su questo evento e soprattutto con le loro relazioni con diciamo il loro parlare ci hanno spiegato nella fattispecie prima il professor Carlo Donadio che ci ha spiegato un po' come si interagisce il sistema costiero con i cambiamenti climatici e poi il professor Boero ci ha detto quello che il contenitore mare come viene appunto salvaguardato dalle nuove leggi e quindi stasera spaghetti con le cozze e quindi stasera spaghetti con le cozze noi non terremo mai mai sono sostenibili sono sostenibili a maggior ragione ok ciao buona grazie a tutti grazie mille professore grazie professor Dandio ciao ancora grazie ciao ciao